Rispetto alla richiesta di aggiornamento fatta dal gruppo di Cor, è chiaro una richiesta che io non posso accogliere. Non accetto pretesti né rivendicazioni che non siano finalizzate da portare a provvedimenti nell'interesse della comunità. Ve lo dico in modo diretto, nei denti, in questa sisse consigliare, che ritengo essere il luogo dove si devono discutere le cose, perché se sono queste azioni finalizzate ad ottenere delle rivendicazioni, da oggi in poi consideratevi fuori dalla maggioranza perché io non sono più disponibile a negoziare sui provvedimenti nell'interesse della comunità. Tanto tuono che piove. Primo poi doveva succedere che il conflitto in atto tra il sindaco di Andrea Nicola Giorgine e Cor, il movimento politico fondato da Raffaele Fitto, a cui aderiscono tre consiglieri comunali, dovesse esplodere, e dal rimpasto che mi si fa trasformato l'aggiunta tecnica nominata all'indomani delle elezioni in esecutivo politico, che tracorre il sindaco e in atto una guerriglia che sta minando la stessa tenuta della maggioranza. Scontenti del rimpasto dal quale si attendevano il recupero di alcuni dei più fedeli colonnelli di Giorgino, non rieletti alle elezioni comunali, e comunque da una difficoltà nel relazionarsi con il sindaco per superare perplessità sull'azione amministrativa, Cor è diventato una spina nel fianco di Giorgino, certamente più dolorosa dell'assopita opposizione del centro-sinistra. Giorgino ha sempre minimizzato la cosa, ma ieri all'ennesima fibrillazione si è lasciata andare ad una presa di posizione che potrebbe avere grosse ripercussioni sugli assetti futuri del centro-destra. Nel corso del Consiglio Comunale già c'era stata baruffa sulle variazioni di bilancio, con i tre consiglieri di Cor che si erano astenuti, motivando la loro posizione con il mancato confronto richiesto al sindaco per essere aggiornati sulla situazione dei conti dell'ente alla luce di alcune perplessità espresse dai revisori dei conti. La rottura è avvenuta sul punto più importante all'ordine del giorno, e cioè gli stralci funzionali. Su questo provvedimento urbanistico Cor ha chiesto un rinvio di 15 giorni per approfondire la questione. La risposta di Giorgino l'avete ascoltata, nessun rinvio e chi non vota il provvedimento è fuori dalla maggioranza dopo una dura replica della Giovanna Bruno di destra, che ha respinto quello che ha definito un ricatto. I tre consiglieri di Cor hanno abbandonato l'aula. La cosa comica è che dopo questo scontro è stata la stessa maggioranza a proporre una decina di emendamenti che hanno indotto il sindaco, sul Consiglio del dirigente, a rinviare il punto per poterli esaminare con maggiore tranquillità. Risultato, il provvedimento non è stato votato e quindi Cor sarebbe ancora in maggioranza, ma il suo abbandono dell'aula, dopo le parole del sindaco, è un inequivocabile atto di rottura politica con la maggioranza. Conoscendo i protagonisti della vicenda, ora si darà la stura a tutti i bizantinismi del caso. Riteniamo invece che a questo punto la risposta debba essere chiara una volta per tutte. Se corre dentro o fuori, Giorgino deve dirlo e se sì, dovrebbe revocare l'assessore e verificare i numeri per andare avanti, visto che senza conservatori e riformisti la maggioranza avrebbe un solo voto di vantaggio e sarebbe quindi, come del resto avviene già da tempo a Barretta con risultati disastrosi, a rischio raffreddore o mal di pancia. Si attendono risposte utili a comprendere se il proseguimento di questa consigliatura sarà o no un tirare a campare, con il costante rischio di tirare le cuoia. In tal caso qualcuno avverta il Partito Democratico che difficilmente se ne accorgerebbe.